Cerca il pallone Mancinelli, cerca lo spazio che non c'è, Kandi in difficoltà, va da Nox, è in emergenza la fortitudo, Nox trova in qualche modo Kandi, si è salvata la fortitudo, Kandi da casa sua! Fa impazzire il Paladonza, Leonardo Kandi, più due Bologna, che canestro è! Delirio al Paladonza, cosa ha messo Leonardo Kandi? Trieste aveva difeso da manuale, mancavano tre secondi, Kandi ha tirato da casa sua, senza aver costruito nulla, e con le mani in faccia quasi, di Daniele Cavaliero, ha messo una tripla impressionante! Impressionante!